Salve a tutti ragazzi, madonna vita che non lo dicevo e benvenuti ad un nuovo video. Innanzitutto scusatemi per questa lunga, ma troppo lunga assenza, ma diciamo che, a me sembra che sia dall'estate scorsa che non faccio video, perdonatemi, ma tra la ripresa dei corsi in palestra, poi tra l'altro sono tornato come ben vecchi tempi pre-Covid a insegnare ai bambini, quindi comunque in palestra ci sto anche più tempo. Poi a ottobre scorso sono stato a Torino per uno stage internazionale due giorni con Richard Damos e Roberto Riccomagno, tra l'altro non so se vi ricordate quel libro che avevo recensito a febbraio scorso inseguendo il buscito, ecco, è stato un evento proprio per promuovere questo libro, e infatti all'epoca ve lo dicevo, chissà se magari sarà organizzato uno stage, infatti così è stato, e in più sto anche preparando, insomma, sono in una fase importante anche del mio percorso con il karate perché sto preparando l'esame di Terzo Dan, quindi, insomma, purtroppo sono stato straimpegnato, quindi perdonatemi se non ho più fatto video, però adesso cercherò magari di riprendere un pochino. Allora, in questo video di oggi ecco, volevo farvi divertire un po', diciamo che è un mini remake di quel format che abbiamo fatto, che ho fatto l'estate scorsa, no, di Karatekin e la riscossa, non so se vi ricordate, no, quando appunto Michelle Unziker aveva preso la cintura blu di Karatekyo Kushinkai, ci sono state tutte quelle polemiche lì con tutti quei commenti idioti, ecco. E questa volta, invece, volevo leggervi alcuni commenti inerenti un evento, un evento molto importante promosso dalla Filcam, che è la federazione a cui appartengo, che si svolgerà il 18 dicembre, proprio il giorno in cui io sosterrò l'esame di Terzo Dan a Busto Arsizio, tra parentesi, prima bisogna vedere se supero il pre-esame il 4 dicembre a Pozzuolo Martesana, speriamo. Quindi, un evento che si svolgerà il 18 dicembre, che è un evento, secondo me, unico, che vede protagonisti due grandissimi campioni. Stanislav Foruna, che è un campione ucraino di Kumite, che tra l'altro, purtroppo, è stato anche chiamato alle armi nel conflitto in corso in Ucraina, che si sta svolgendo, ahimè, dal 24 febbraio scorso, ai noi. E poi, oltre a Stanislav Foruna, ci sarà anche Luigi Busa, che è un campione nostrano, un grandissimo campione di Kumite, ricordiamo, medaglia d'oro olimpica a Tokyo 2021. E, tra l'altro, io con Luigi Busa ci ho anche lavorato nel 2013 nell'ambito della manifestazione Karate All Stars, organizzata da Lucio Maurino a Caserta, bei tempi quelli. Quindi, insomma, uno stage con questi due grandissimi campioni, Stanislav Foruna e Luigi Busa, il 18 dicembre, si svolgerà presso il centro sportivo Brembate Sopra, via Locatelli 36, quindi Brembate Sopra, in provincia di Bergamo. Per info, potete rivolgervi a MaxFerrarini, cellulare 338-4876-244, oppure potete chiedere informazioni mandando una mail all'indirizzo karate-judocarateclub.it. Ma veniamo ora allo scopo principale di questo video, che è quello di perculare alcuni, ovviamente in maniera molto bonaria, no? Insomma, alla fine ci divertiamo un po', alcuni commenti, perché purtroppo, ragazzi, nel Karate, tutti lo sappiamo, ai noi c'è sempre questa eterna guerra tra poveri, in cui si dice, in cui si dice, eh vabbè, ma sai, il mio Karate è meglio del tuo, il tuo fa schifo, il Karate tradizionale, il vero Bushido, il Karate sportivo fa schifo, e tutte queste cose che, ragazzi, tutte queste polemiche inutili, che secondo me hanno un tantino stufato, ok? E ovviamente i soliti detrattori, insomma, ovviamente i commenti vi leggerò sempre in forma anonima, come ho fatto anche con Karatechina la riscossa, insomma, i soliti commenti dei detrattori non si sono fatti attendere, ahimè, anche per questo, anche per questo evento, e ve ne leggo qualcuno, anche perché purtroppo, devo dire, sono pochi di materiale, ne abbiamo un po' pochino, però, quel tanto che basta per divertirci, e innervosirmi, anche contemporaneamente. Allora, vi faccio vedere, un attimo, la locandina, per potervi leggere questo primo commento, in modo che così capite. non posso, non posso girarlo, vabbè, allora, non posso girare la telecamera, non si capisce perché. Allora, come vedete, questa è, non so se si è riuscita a vederla bene, è la locandina, dello stage. Allora, perché Stanislaforuna e Luigi Busa sono a bocca aperta? Semplicemente, perché sono stati immortalati, nel momento in cui, questi due atleti, emettono il famoso, Kiai, quindi, il nostro, urlo, tra virgolette, che noi utilizziamo, nei momenti salienti, dei kata, che utilizziamo, quando portiamo, delle tecniche, nel kumite, insomma, quindi, è una cosa normalissima, che riguarda la nostra disciplina. E uno dei commenti è stato, una cosa fantastica, che in realtà, non è che mi ha fatto i nervosieri, mi ha fatto più ridere che altro, che dice, uno stage di urli, perché ci sono Oruna e Busa, a bocca aperta, perché si vede, sono stati immortalati, mentre fanno il Kiai. Poi c'è, insomma, un altro, che risponde sicuro, cioè, poi la cosa bella, è che, tante volte, si va a giudicare, senza neanche magari capire, senza magari neanche, sta stento leggere le informazioni, cioè, siamo italiani ragazzi, diciamoci la verità, noi ci fermiamo, sempre alle apparenze, e quindi, inevitabilmente, poi, scadiamo in polemiche inutili, magari soffermandoci, soltanto sulla prima immagine, no? Quindi è stato fantastico, questo, uno stage di urli, no? Poi, per esempio, c'è stato, c'è stata questa risposta, di un altro utente, fantastica, che dice, loro non urlano, ruggiscono, e infatti, poi, sempre lo stesso utente, ha scritto una cosa, molto molto bella, che io, una riflessione che io condivido, che dice, la nostra prima reazione, di fronte al comportamento, di un altro, è una valutazione, un giudizio, anziché un atto di curiosità, e comprensione, proprio nel senso, di comprendere, quando qualcuno, esprime un sentimento, in questo caso, assume un atteggiamento, tendiamo subito, a pensare, è giusto, è ingiusto, è normale, molto di rado, ci permettiamo, di capire esattamente, quale sia per lui, il significato, spiace, dover sempre, sottolineare, questi concetti, ma a quanto pare, scusatemi se mi sono permesso, sono sempre dell'opinione, che il pensare, di conoscere tutto, è come credere, che il mare, finisca all'orizzonte, questo, è fantastico, ragazzi, cioè, questo commento, secondo me, è da standing ovation, anche perché poi, come dice giustamente, questo utente, noi, appunto, tendiamo, veramente, a soffermarci, proprio, soltanto, in superficie, senza neanche capire, magari, anche una cosa, che vi dico, che potrà sembrare banale, però, senza neanche capire, senza neanche, magari, immaginare, lo sforzo organizzativo, che c'è dietro questi eventi, noi ci soffermiamo, soltanto, ah, è karate sportivo, ah, oddio, le olimpiadi, a oh mio dio, che schifo, oh mio dio, buttiamo tutto nel water, per non dire un'altra cosa, no, allora, voi poi sapete, come la penso, diciamo che, io sono un grande amante, del karate tradizionale, sono un grande amante, anche del karate di Okinawa, perché, insomma, io ho praticato anche, Uechi Ryu, per un periodo, quindi, lungi da me, essere, il fanatico, magari, dalla parte opposta, no, cioè, diciamo che, io ho sempre inteso, il karate, un po', a 360 gradi, no, quindi, a me piace, sia il karate tradizionale, sia anche il karate, sportivo, anche perché, faccio parte, di una federazione, che, promuove, fondamentalmente, il karate sportivo, ma, comunque, ripeto, anche il karate tradizionale, a me piace molto, e, quindi, diciamo che, io amo un po', attingere, da, da entrambi, questi aspetti, anche perché, ricordo che, un, un, maestro, con cui, ho feci uno stage, nel 2015, ci disse, ci disse, che il karate tradizionale, e il karate sportivo, sono due facce, della stessa medaglia, quindi, inutile stare, sempre lì a, fare, diciamo, è inutile, eh, contrapporre, sempre, questi due modi, di fare il karate, è inutile fare sempre, l'uno contro l'altro, no, eh, quindi, purtroppo, diciamo che, anche in questo caso, non si è persa, l'occasione, di far polemica, non si è persa, l'occasione, di, insomma, stare sempre lì, a sottolineare, magari, ah, io quanto sono bravo, ah, voi quanto fate schifo, però, vabbè, ragazzi, alla fine siamo umani, per carità, c'è libertà di pensiero, c'è diritto di critica, assolutamente, però, magari, se la smettessimo, con, questo tipo, di atteggiamento, insomma, penso che, il karate tutto, ne gioverebbe, indubbiamente, quindi, vedete, alla fine vi ho letto, qualche commento, ma più che un remake, di Karatini alla riscossa, era proprio, una riflessione, no, ho voluto proprio fare, una riflessione, insieme a voi, eh, sottolineando, come, purtroppo, il nostro mondo, sia, fin troppo diviso, e, io direi, che sarebbe anche ora, di smetterla, no, insomma, se magari, cercassimo un po', di collaborare, piuttosto che stare sempre, a darci addosso, penso che sarebbe meglio, per tutti, ovviamente, fatemi sapere, qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, io sono aperto, a qualsiasi, tipo di discussione, sono aperto, a qualsiasi riflessione, quindi, fatemi sapere, poi, per chi fosse, interessato all'evento, eh, vi ricordo, il 18 dicembre, stage, Stanislav Oruna, e, Luigi Busà, presso il centro sportivo, brembate di sopra, via Locatelli 38, quindi, brembate sopra, provincia di Pergamo, salvatevi la data, segnatevi la data, insomma, a chi interessa, soprattutto chi è della zona, perché, insomma, secondo me, è un evento molto importante, io nel frattempo, il 18 dicembre, se tutto va come deve andare, nel frattempo, sarò a Busto Arsizio, a sostenere l'esame di Terzo Dan, dita incrociate, ovviamente, poi vi farò sapere anche di questo, magari, e niente, io ho concluso questo mio video di oggi, spero vi sia piaciuto, scusate ancora per questa mia lunga assenza, ma, insomma, questa volta, magari, adesso cercherò un po' di riprendere il ritmo, ovviamente, se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate, condividete, e se i miei contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione, e ci rivediamo ad un prossimo video, arigatou gozaimashita, per l'attenzione, Grazie.